Ciao a tutti! Io sono mamma Claudia Io sono papà Salvo Benvenuti in un nuovo video sul canale dei Cavaleri Family! Eh papi, papi Ma dove ci troviamo? Siamo sotto un albero Mamma non dire niente Prima di cominciare a guardare questo freddosissimo video Ricordatevi di Iscrivervi al canale Cavaleri Family Cliccate sempre sulla campanella Ma ricordatevi anche di seguirci sui nostri social Instagram e TikTok E seguirci anche sul nostro nuovo secondo canale Cavaleri Sisters! Ragazzi vi avevamo promesso che al raggiungimento di tantissimi mi piace Avremmo fatto una seconda parte del nostro vlog sulla neve Con un sacco di slittini Palle di neve e tanto divertimento E invece guardate dove ci troviamo ragazzi Niente siamo sotto un albero No! Siamo a parco giochi! Chi è che sta svelando? Cosa cosa? Guardate! Parco giochi mi affittiamo un'ora sulla neve! Mamma ma questa è la prima volta che ci troviamo in un parco giochi con la neve Sì ragazzi è bellissimo Noemi vuole fare un pupazzo di neve Ma ragazzi scrivete giù nei commenti se anche voi siete mai stati In un parco giochi sulla neve avete mai fatto l'altalena e lo scivolo ricoperti di neve? Sì mamma ma soprattutto mentre nevica È una giornata spettacolare Guardate Aurora è andata già là dentro Io la raggiungo subito Oh no vado anch'io Vediamo chi arriva prima Guardate chi c'è anche qui con noi Sbrizzi! Sbrizzi predilo! Fredilo sprizzi! Fredilo predilo! Ma dov'è Aurora? Non la trovo ragazzi la vedete? Ciao! Dove la sento? La sento ma non la vedo Addirittura c'è un piccolo parco avventura dall'altra parte che ora ci andremo Qui c'è lo scivolo ma ancora non trovo Aurora Ragazzi se voi la vedete scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere Ok? Vediamo su quest'altro scivolo No! Non è che si è messa sotto la neve? Controlliamo vediamo Ragazzi sono qui! Ma sei qui! Ma cosa stai facendo? La stellina! Guardate! Ne sprizzi nel frattempo corre ancora Ma sprizzi vai! Guardate alla piccola Noemi sempre spericolata ragazzi Vai Emi! Forza! Brava è! Ti sei divertendo amore? Sì! Vai a vedere come vai? Spuntala qua Vediamo se arrivi 3, 2, 1 Ecco! Scusate scusate La mamma Claudia è tornata bambina piccina Aurora è lì sul trenino Ma guardate dove è la mamma ragazzi C'è dietro l'albero di Natale nevato Mamma ma cosa fai? È un po' di artanena papi con la neve è bellissimo Ma dietro hai l'albero di Natale guarda Davvero? È vero papi ora salto Ma è quello vero? Vai 3 Secondo voi ce la farà ragazzi? Scrivetelo giù nei commenti E mettete un mi piace per la mamma 3, 2, 1 Vai vola! Ma cos'è? Ma cos'è? Ma cos'è? Ma cosa stai facendo? Mamma cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Mi si sono appannati tutti gli occhiali Vi è piaciuto il salto? Mettete un bel mi piace per me ragazzi Mi raccomando eh Ma c'è un parco avventura laggiù Guardate dove sono Aurora e Noemi Guardate! No vabbè mamma È pazzesco Guardate ragazzi Guardate Ci arriviamo subito Evi ma cosa stai facendo? Evi ma che è mia piccolina Evi piccolina Aurora è pronta per fare il suo percorso ragazzi Guardate Riesco da saltare E devi salire su amore Vai mamma ti aiuta adesso a salire Vediamo Vediamo cosa ho riuscito a fare Salta Salta Guardate ragazzi Mamma la devi mettere su Salta Salta Dai Dai Ragazzi è un'immagine bruttissima Ragazzi vengo in soccorso Eh ce l'ha fatta ce l'ha fatta Ma tira sulle mani Agganciati bene con le gambe Ragazzi tutto bene Papi spostati Niente alla fine è la mamma Papi io sono pronta 3 2 1 Ma cosa stai Date sprizzi la vola Oppa Bellissima ragazzi Date sprizzi Cosa fai mamma Tocca d'auri Eccola 3 2 1 Via Lasciala Auri Leggiti bene Fogate Vai E ritorna indietro anche lei Grazie Aiuto Aiuto Ora tocca Noemi Ecco qui ora è la volta di Noemi Emi tieniti bene con le mani Perché là dà un bel colpo Emi stringiti forte che cadi Stringiti forte 3 2 1 Via Stringiti forte Fortissimo Fortissimo Emi forte Emi Yuhuu Grande piccola Mogli Tocca a me mamma Ok papi io voglio proprio vedere Via Grande Auri Grande sfida Papi vai Velocissimo Partito E ritorna E ritorna Grande Ragazzi Scrivete giù nei commenti Qual è stato il migliore Il mio Assolutamente no Tocca a me Tocca a te Ancora lo vuoi rifare Ancora ancora Ma è bellissimo Poi qua è morbidoso tutto Mamma mamma Vado a fare una cosa incredibile C'è un tunnel che arriva ad un treno Come? Un tunnel che arriva ad un treno Andiamo a scoprirlo papi Ragazzi sono proprio curiosa di vedere Dove vuole andare papà salvo Ando scavalco Intanto scavalchi Vediamo Oh mamma mia Guardate là Ecco Guardate là dietro Ecco l'agilità Vabbè Ce l'ha fatta Andiamo a vedere dove vuole condurci papà salvo Secondo voi mi devo fidare di lui Fatemelo sapere Scrivetelo giù nei commenti Bimbe volete venire con noi in questo tunnel? Aurora e Noemi rimangono là Ecco qui papà salvo Era questo il tunnel Papi Sono pronto eh Va bene Voglio proprio vedere dai Quindi papi Questo è il tunnel Cortissimo eh Però che porta là E arrivi fino al treno In fondo Vediamo in quanto tempo riesci a farlo Dieci secondi ce l'ho stata Dieci secondi? Vabbè io conto allora Via Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro È uscito di là Grande Non male eh Non male Brava Tocca a te mamma Tocca a te E va bene ci sto Ti sfido in questa gara di velocità sulla neve Vediamo mamma La mamma già si è preparata Ho detto tango gli occhiari Sono pronta Ti inquadro proprio da qua Scrivete giù nei commenti Il migliore Ok Eccola Tre Due Uno Via Tre Quattro Incastrata Cinque Sei Sette Scattolosa Otto Nove Dieci Ma cos'è Udici Ma ancora non si è arrivata Dodici Stai stimolando Tredici Quattordici Ho fallito Ho fallito Sono scivolata Mi sono frantumata un ginocchio Ragazzi Come al solito mamma È stato un disastro Ma adesso vediamo Aurore e Noemi Il record da battere è il mio Otto secondi Aurore e Noemi La fanno insieme Siete pronti? Via Palla mia Velozissime Forza Brava Dai Auri Grande Tre Brava Quattro Cinque Sei Guardate Sei Sette Otto Grande Dai Nove Grande Dieci Bravi Mamma Ti hanno battuto Sei scandalosa Papi Mi hanno battuto tutti Per chiudere questo video sai cosa faccio mamma Che cosa papi Faccio un bello scivolo Anch'io andiamo a fare lo scivolo Via Scivolo sia Vediamo chi sale per prima Guardate Noemi sta salendo da qui Ma come fa Mamma ma come farà a superare lì La mamma è di là guardate Già è salita su Ma tu dove vuoi andare qua Dove vuoi arrivare Sali dall'altra parte Emi Veloce vieni No vabbè Mamma ma cosa fai Ce l'ho fatta Ma puoi cadere Ok ragazzi Io sono appena salita E ci sono più direzioni Guardate Qua c'è uno scivolo Ed è esattamente questo Di là c'è l'altro scivolo E c'è Aurora Auri stai scendendo tu Ok 3 2 1 via E poi di qua ragazzi C'è il ponte tibetano Ora scrivete giù nei commenti Che cosa devo fare per primo Lo scivolo Il ponte tibetano Oppure l'altro scivolo Che ha fatto Aurora Scrivetelo giù nei commenti E fatemelo sapere Al più presto Nel frattempo Io sto aspettando Che salgano Emi e Papà Salvo Ma dove siete Eccoli Sono ancora qua sotto Ma cosa state facendo Quaggiù Ci stiamo sistemando Per fare lo scivolo più bello Ecco ci sta riprovando Anche Noemi Da questa parte Emi stai salendo Da dove sono salita io Eccola Papi dove stai andando Ma non in cima Attento a che scivoli Dove vai Hai sbagliato Aiuto Aiuto Ma cosa stai facendo Stai riempiendo di neve Sprizzi Papi Guardate povera Sprizzi Pena di neve Entra dentro Brava Emi Da questo passaggio Vieni Vieni Grande Brava Emi Papi Papi Eccola qui Eccola qui Auri Ok ragazzi Un po' di commenti Sono arrivati Quindi devo fare lo scivolo Va bene E allora farò lo scivolo Per voi Farò quello che ha fatto Aurora Ti metti un attimo Ragazzi Sola di neve Ma così Vai Emi Vai Emi Vai Emi Ah ti prende Auri Sieni Ah colpito Brava Auri Ok tocca al mio scivolo Ragazzi venite con me Ma ci entro? Sì 3 2 1 Ti spingi Ciao ragazzi Ciao Ok ragazzi Tocca a me Sono l'ultimo Ma gli ultimi saranno i primi Ecco ragazzi Sta arrivando anche Noemi Veloce Un frontale con Sprizzi ragazzi Sprizzi sei sopravvissuta Arrivo sei pronta Papi ti infili per caso Guardate 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 papà salvo Guardate Mamma mia Non hai toccato Neanche la neve Sei rimasto incastrato Ma Sprizzi mi sta mordendo Certo ma che Sprizzi dice Ma cosa fai Cioè sei un disastro Va bene ragazzi Se anche questo nuovo video vi è piaciuto Ricordatevi di Iscrivervi al canale Cavaleri Family E cliccate sulla campanella Ma soprattutto ricordatevi che Noi siamo i Cavaleri Family Aiuto Mamma mi stanno riempi Ma non vale Questo è un attacco A sorpresa E allora adesso mi vendico Ah si Fermali che ora ti riempio di neve Ora ti prendo e ti sbatto per terra Vieni qua Vieni qua Vieni Presa quasi presa 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 E allora gliela butto 3 2 1 Chiudiamo con la freschissima neve Ciao Aspetta 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 Non te ne andare Clicca qui Per iscriverti al canale Cavaleri Family Clicca qui Oppure qui Se vuoi continuare a guardare Uno dei nostri video Ciao a tutti